Come è cambiato il suo stato d'animo negli anni con la lenta ma costante affermazione dello Stato anche nel nostro territorio fino ad ottenere addirittura un'associazione anti-racket dedicata a suo marito e addirittura a livello regionale? Il mio stato d'animo sicuramente è cambiato in positivo, ma ero già positiva a Monte, ero certa che questa città non avesse tutti i peccati che si declamavano ed ero certa che la società civile si sarebbe impegnata perché tutto quello che è successo non avvenisse più. I dati mi hanno dato ragione, è un pasticcio di parole ma è una realtà. 11 anni di attività, si è partiti veramente dal periodo più buio della nostra città e invece lei come guarda il futuro oggi dopo 11 anni dell'attività dell'associazione? In maniera molto positiva, siamo diventati un esempio, tant'è vero che abbiamo la sede regionale nella nostra sede. È stato un bel riconoscimento, un gran riconoscimento, ma il lavoro c'è stato, il lavoro è stato fatto, siamo diventati affidabili, siamo un esempio e va bene così. Se avesse la possibilità di lasciare un messaggio ai giovani di questa città, quelli che negli anni 80 e 90 non c'erano, che cosa direbbe? Abbiate dignità nella vita, non si sbaglia, non si cede, non si porge il fianco, non si cerca il compromesso e si va avanti a testa alta. E a quelli che c'erano? A quelli che c'erano, oddio, se hanno sbagliato e hanno pagato, benvenga per loro uno spazio nella società. Se ancora non credono che ci possa essere una società di persone per bene, che si ravvedano perché il mondo cambia, grazie a Dio il mondo cambia.